Entra nel vivo la somministrazione della terza dose del vaccino anticovid. Oggi è cominciata la possibilità di prenotarsi per i marchigiani con più di 80 anni che hanno già ricevuto da sei mesi le prime due dosi o la dose unica in caso di Siero Johnson & Johnson. Da domani, martedì 5 ottobre, cominceranno anche le somministrazioni negli hub vaccinali regionali che restano comunque aperti anche alle persone di ogni fascia d'età che devono ricevere ancora la prima dose. Si allarga dunque sensibilmente la platea delle persone vaccinabili con la cosiddetta dose booster dopo il via dello scorso 20 settembre alle categorie fragili convocate direttamente dai centri ospedalieri. Contestualmente alle vaccinazioni che partono anche all'interno delle RSA, la terza dose in questi primi giorni di ottobre chiamerà in causa ben 111.000 marchigiani nati fra il 1941 e le precedenti classi d'età. Dopo settimane di vaccinazioni libere negli hub e nei camper si rimette in moto dunque anche la macchina operativa delle prenotazioni online da effettuare attraverso il sito della Regione Marche o di poste italiane. Novità il fatto che per la terza dose verranno somministrati soltanto i sieri Pfizer e Moderna indipendentemente dal fatto se la prima fase della profilassi sia stata effettuata con AstraZeneca e Johnson & Johnson. Una nuova fase della campagna di vaccinazione che si coniuga ad un confortante dato sulla portata dei contagi con l'ultima settimana di settembre chiusa a 407 casi in Regione, ovvero il dato più basso degli ultimi mesi con un tasso cumulativo sceso sotto i 30 casi ogni 100.000 abitanti. Un dato ulteriormente abbassatosi oggi in una giornata da appena 18 contagi nelle Marche complice la ridotta quantità di tamponi processati nel weekend, appena 828.